salve amici del tubo benvenuti al sesto episodio di Cubase 5 il tutorial come creare un brano da zero che cosa faremo oggi in questo episodio questa puntata incideremo la chitarra ritmica allora vi devo dire tre cose la prima come chitarra ritmica io questo gusto personale ho scelto di suonare una chitarra acustica si la suono con l'elettrica ma attraverso la mia pedaliera uso un effetto che simula il suono della chitarra acustica 2 essendo una ritmica abbiamo già inciso la prima chitarra arpeggiata poi abbiamo inciso il basso che cosa significa questo che è inutile che io vado a suonare accordi pieni per suonare la chitarra ritmica è assolutamente inutile perché come bassi e come toniche li facciamo già suonare sia al basso ovviamente che non che anche scusami alla chitarra ritmica scusami alla chitarra arpeggiata che abbiamo suonato la prima volta in precedenza all'episodio 4 mi pare vabbè vattica a vedere allora andiamo per grado per cui ti ricordo di scaricare da qui sotto i link dai link che trovi qui sotto nella descrizione le tablature della chitarra dell'arpeggio le tablature della linea di basso ed oggi troverai anche le tablature della chitarra ritmica cioè suoneremo solamente sui cantini suoneremo solamente queste tre corde per cui suoneremo non suoneremo oggi è una giornata uggiosa sta piovendo per cui non riesco a parlare molto bene per cui suoneremo ripeto solamente i cantini per suonare per incidere appunto la nostra chitarra ritmica allora andiamo subito a vederle tutte le 12 tablature sono 12 le tablature del gli accordi che suoneremo sulla ritmica e in culo anche i jets eccoci qui apriamo il primo questo semi barré al settimo tasto questo che cos'è questo semi barré al settimo tasto non è altro che un sol sette ma maggiore suonato in forma di re infatti non c'è la tonica vedi non c'è il sol la nota sol perché come dicevo prima già la suonano sia il basso che la chitarra che suonano arpeggio è inutile che ce lo rimetto la tonica no non serve assolutamente a niente 0 2 che cos'è questo è un fa diesis settima sempre in forma di re ok 0 3 e questo qui è un mi minore in forma di re ok ok poi abbiamo questo la dopo di cui abbiamo questo questa volta re settima maggiore poi abbiamo sol settima maggiore sempre in forma di mi questa volta sol settima maggiore e come vedi neanche qui c'è la tunica poi che cosa abbiamo ah sì questo qui è un do diesis settima do diesis settima sì esatto do diesis settima e eccola la settima del do diesis è questa nota si suonata sulla corda sol al quarto tasto sulla terza corda e questo qui è un che cos'è un do diesis settima l'ho già detto sì e anche qui ovviamente non c'è la tonica poi abbiamo un fa diesis settima ok la settima del fa diesis è questo mi suonato al quinto tasto corda si poi abbiamo questo che è un a tutti gli effetti un accordo di re maggiore ma noi lo pensiamo come si minore settima questo è la figura che si compone se voglio suonare un accordo di re maggiore certo perché abbiamo il la fa diesis re ma queste tre note sono anche le note che compongono l'accordo di si minore per cui settima per cui noi non lo penseremo come re maggiore ma lo penseremo come re eh sì buonanotte lo penseremo come si minore settima infatti non lo pensiamo come re maggiore perché la corda re non la suoniamo vedete c'è una bella x qui non suonare dopodiché abbiamo un si maggiore settima ok la settima sia in questo sia in questo si minore che in questo si maggiore la settima è sempre il la ovvero la seconda la nota la suonata sul secondo tasto corda re corda sol niente questa mattina poi gli ultimi due abbiamo mi minore che suonerò suonando scusa il gioco di parole le corde sol si e mi a vuoto infatti qui vedi sol dove è ecco sol si e mi sono sullo zero 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 che cosa vuol dire zero corda da suonare a vuoto corda a vuoto e l'ultimo accordo che suoneremo per la ritmica è questo che cos'è questo è praticamente un la quarta dove la quarta laddove la no la nova nova gliela posso fare la nona la nove dove la nove la nona eccola qui è questo si suonato a vuoto basta poi gli altri accordi si ripetono chiudiamo e apriamo il progetto che abbiamo lasciato in sospeso eccoci qui apriamo il progetto ta ta eccolo ok che cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per la chitarra arpeggio e il basso ovvero andiamo su questa riga dove ci sono l'inizio delle tracce i nomi delle tracce in uno spazio vuoto tasto destro del mouse si apre la tendina aggiungi traccia audio quantità di tracce una mi sta bene stereo assolutamente sì ok eccola qui scendiamo giù con lo scroll del nostro mouse poi poi facciamo doppio clic sulla scritta audio 03 che arriva di default doppio clic e chiameremo questa traccia kit no maiuscolo meglio kit ritmica ok kit ritmica perfetto allora direi che è tutto pronto vediamo le ultime due cosine allora anzitutto vabbè allarghiamo la nostra visuale che è sempre buona cosa ok andremo ad incidere solo la prima tranche della nostra il primo blocco di 16 battute della nostra spagna di cicoria di corrado teils sì magari di cicoria sì ciao ci posizioniamo sul nostro che fai è partito ma come ti permetti ci posizioniamo sul nostro eh famosissimo battuta numero 3 famosissimo battuta numero 3 perché questa battuta lo non so l'ho già detto ma ripetere non fa mai male ci serve solo ed esclusivamente per avere un click iniziale d'accordo per assimilare il tempo all'inizio qui noi non su queste battute 3 e 5 dal 3 e 4 non incideremo assolutamente niente cominceremo a incidere dalla battuta 5 alla battuta 21 ok per cui mi posiziono sulla battuta numero 3 laddove comincia la batteria che amabilmente abbiamo chiamato click chitarra ritmica niente basta incidiamo ci vediamo immediatamente dopo qui ci vediamo qui ci vediamo qui va bene questa è la traccia che abbiamo appena registrato della chitarra acustica ritmica si va bene ho usato un'acustica però l'abbiamo chiamata chitarra ritmica allora soliti due o tre lavorini finali potevamo farla migliore questa traccia assolutamente che si ma quello è un compito che spetta a te a casa tua io mi accontento alla grandissima questo tanto in questo tutorial non devo fare chissà quale brano di bellezza universale devo semplicemente mostrarti come fare al meglio e velocemente le cose andiamo a prendere la nostra forbicina mi raccomando sempre il tasto snap acceso non deve essere di colore bianco ma deve essere di colore azzurro per il fatto che sia acceso andiamo sulla prima battuta che è la numero 5 clic e taglio andiamo sull'ultima battuta clic la 21 clic e taglio riprendiamo il nostro mouse evidenzio questo spazio vuoto che non ci serve tasto cance del pc e si cancella evidenzio quest'ultimo pezzo tasto cance e si cancella eccolo qua ho la mia traccia sul primo blocco accorciamo un attimino la visuale e duplichiamo solito discorso per cui tasto alt del pc tasto sinistro del mouse e trascino li tengo premuti entrambi e trascino alt e tasto sinistro del mouse e trascino ecco qui che ho triplicato la mia traccia di chitarra ritmica e andiamo a colorare perché è giusto avere a colpo d'occhio un impatto visivo immediato questo l'abbiamo fatto di arancione questo lo faremo di yellow di giallo basta va bene per questo video è tutto noi ci vediamo la prossima state bene ciao